Villa Incontri, dimora storica del XVI secolo, è un paradiso in città dove potrete soggiornare nel nostro bed and breakfast o negli appartamenti. Ospitiamo anche eventi. Un meraviglioso parco circostante e comodi parcheggi allieteranno il vostro soggiorno. Villa Incontri è un mix di storia e natura dove il tempo sembra essersi fermato.